I nematodi formano la classe che contiene forse il maggior numero di specie. Si ritiene infatti che esistono centomila differenti specie di nematodi, che si differenziano tra loro talvolta solo per piccoli particolari. Possono misurare anche più di un millimetro. Hanno movimenti molto vivaci e serpeggianti che ne rendono sempre difficile l'osservazione.